Doveva essere un regalo quella vacanza per il compleanno del marito, sui monti invece è finita in tragedia. Maddalena Donati, 29 anni, originaria di Padova, ma residente a Vicenza, è morta ieri mattina sotto gli occhi del marito, scivolando in un canalone per 300 metri. Siamo sul monte Coppolo, nel comune di Lamon, Belluno. La coppia stava facendo una gita con le ciaspole quando la donna ha messo un piede in fallo ed è precipitata. L'incidente è accaduto intorno alle 12.30. Il marito, sotto shock, è riuscito a chiamare i soccorsi, ma per Maddalena non c'è stato nulla da fare. La donna è morta sul colpo.